C'è quella rosa lì da ampiezza, ma in realtà è tutto fasullo, devi sparare più o meno al centro di questo mirino E' fasullo Mamma mia che consiglio di merda Ma che senso ha? Che senso ha? E' qua 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 Ah si si è una mina di merda Ma sono sempre entrati, se non uno che usciva fuori, ma alla fine sono sempre entrati Non sempre Porco di me Schiliscio Che sta a fa' Ma non ci arriva una seconda Ma non ci arriva 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 Ma non ci arriva